E siamo alla finale, all'ultima finale femminile dell'edizione 2008 della Torneo di Parigi. Abbiamo sul tappeto l'Algerina Soraya Haddad, data la 30 settembre dell'84, 23 anni, ricordiamo un bronzo ai campionati del mondo, poi due titoli continentali, due ori al campionato continentale e due bronzi. Dall'altra parte invece abbiamo la cinese Xi'an Dongmei. Nel frattempo c'è un'azione a terra, c'è un'immobilizzazione da parte dell'atleta blu della cinese che ha bloccato di nuovo a terra la sua avversaria. Ricordiamo la cinese, un'atleta un po' più datata, data il 15 settembre della 75, 32 anni, e abbiamo visto che ha continuato la sua opera di immobilizzazione e conquistato il titolo dei 52 chilogrammi. Ricordiamo che la cinese comunque sia un titolo olimpico e tre titoli continentali asiatici. Vainqueur del Tournoal de la Ville de Paris, Ile-de-France, catégorie di 52 kg, Dombré Lucien, Xi. Vainqueur del Tournoal de la Ville de Paris, Ile-de-France 2008, catégorie di 52 kg, Dian Dongmei, Xi. Vainqueur del Tournoal de la Ville de Paris, Ile-de-France 2008, catégorie di 52 kg, Dian Dongmei, Xi. Vainqueur del Tournoal de la Ville de Paris, Ile-de-France 2008, catégorie di 52 kg, Dian Dongmei, Xi. Vainqueur del Tournoal de la Ville de Paris, Ile-de-France 2008, catégorie di 52 kg, Dian Dongmei, Xi. Vainqueur del Tournoal de la Ville de Paris, Ile-de-France 2008, catégorie di 52 kg, Dian Dongmei, Xi.